Tarsilla Botti, residente a Vercurago e dipendente del comune di Pontida. Lei da circa un anno, come ha denunciato lei stessa, è vittima di una grave ingiustizia sul lavoro, lei l'ha definita, tant'è che il giudice le ha dato ragione reintegrandola. Un'ingiustizia quindi, a detta sua, subita proprio dal comune di Pontida, tra l'altro in un momento per lei difficile perché è colpita da una grave malattia. Cos'è successo? Dunque io mi sono assentata dal lavoro a maggio del 2015, giugno 2015, perché mi è stata diagnosticata una grave patologia oncologica, avevo un tumore diffuso un po' su tutto il mio fisico, il mio organismo. Ho dato la notizia al sindaco e per non lasciare il comune di Pontida in una situazione di scopertura, perché io ero responsabile del settore amministrativo finanziario, ho concordato col sindaco di stare assente qualche periodo di ferie, infatti ho preso circa 4 mesi di ferie, per dare al comune la possibilità di organizzarsi e riuscire a sostituirmi. La sostituzione è venuta a settembre con una mia collega e a fronte di questa sostituzione io ho potuto mettermi in malattia e proseguire le mie cure terapeutiche salva vita. Sono rientrata il 27 di maggio del 2016 al lavoro. Il lunedì successivo vengo chiamata in giunta e mi viene detto che sono sospesa in forma cautelare, perché ci sono state due denunce esposte dal sindaco nei miei confronti. Ho chiesto chiaramente, non mi sono stati dati, sono stata sospesa. Sono stata sospesa e sono stata accompagnata fuori dal comune, niente po' di meno che dal maresciallo dei carabinieri del comune Cisano. Io ero molto sconvolta perché era un anno che stavo facendo le mie cure, ero felicissima di rientrare al lavoro, nelle mie funzioni, nella mia attività e mi sono trovata estromessa dal posto di lavoro come una delinquente, abbandonata sul portone, in uno stato veramente pietoso perché non riuscivo a capacitarmi di cosa fosse successo. Cosa che poi ho potuto approfondire negli ambiti di giudizio perché queste due querele sono state esporte da sindaco a seguito di una mail che io ho indirizzato al segretario provinciale della Lega di Bergamo, dove chiedevo l'intervento a tutela di una mia collega che rischiava di essere licenziata perché a fronte di incomprensioni che erano intervenute fra me e l'amministrazione comunale avevo rifiutato di dare la continuità del mio porto da casa perché da casa lavoravo col computer per consentire al comune di poter andare avanti nelle forme amministrative finanziarie. Quando questa collega ha preso il mio posto, ha preso il mio posto solo su garanzia che io la tutelassi e la seguissi anche da casa perché non era in grado di svolgere le mie attività al 100%. Di questa cosa eravamo d'accordo con il sindaco. A seguito di una riunione del personale io decisi di interrompere questa attività di collaborazione col comune di Pontida perché ero stata attaccata da alcuni colleghi rispetto alla mia rigidità procedurale nell'ambito finanziario e il sindaco non aveva preso le mie difese. Quindi ho comunicato al sindaco tramite sms che avrei chiuso il computer e a fronte di questa cosa la mia collega si è trovata nella necessità di dire senza l'apporto della mia responsabile io non sono in grado di portare avanti il lavoro per cui a sua volta si è ritirata. Ritirandosi l'amministrazione si è accannita facendo procedimenti disciplinari in uno dei quali era arrivata la richiesta di licenziamento. Io ero molto preoccupata, ero molto provata dalla mia malattia, ho scritto questa mail al segretario della Lega Nord provinciale chiedendo una cortesemente che potessero intervenire per aiutare questa mia collega. Sono andata oltre i modi nel senso che in questa mail ho definito sindaco arrogante, di questa mi sono anche scusata nelle giuste sedi, per cui c'era un discorso diffamatorio a fronte del quale il sindaco mi ha querelato. L'altra querela invece era legata al fatto che appunto rientrando al lavoro avevo risposto a questo consigliere comunale e avevo firmato come responsabile del settore finanziario e qui sono stata querelata per falso in atto pubblico e per usurpazione di funzioni pubbliche. Nelle sede penali queste tre denunce sono state archiviate perché prive di fondamento e perché la diffamazione è stata derubricata. Io comunque mi sono scusata perché ero sotto cura e non avevo probabilmente cognizione di causa nemmeno di quello che stavo scrivendo al momento. Per quanto riguarda il discorso successivo alla sospensione c'è stato licenziamento. Il mese dopo, il 30 di giugno, sono stata licenziata. Ho impugnato il licenziamento e giusto l'altro giorno è arrivata la sentenza di giudice del lavoro che rigetta, nel senso che mi reintegra al lavoro perché le accuse che mi sono state volte sono tutte prive di fondamento. Tutte prive di fondamento, l'abbiamo letta all'ordinanza, si parla del fatto che sussistono i presupposti in merito alla critica che lei ha fatto al sindaco, però non è rilevante rispetto al licenziamento, mentre gli altri due addebiti non sussistono. Esatto. Ora lei cosa farà? Rientrerà sul luogo di lavoro o no? Sì, io rientrerò sul luogo di lavoro anche se volevo far presente che nel frattempo, prima ancora di essere reintegrata, ho ricevuto a domicilio, notificata sempre dal mestolo del mio paese, un altro avvio di procedimento disciplinare, sempre finalizzato al licenziamento con ulteriori addebiti che, se sarà il caso, dovrò reimpugnare di fronte al giudice del lavoro. Ma la mia intenzione in effetti è quella di rientrare sul mio posto di lavoro perché credo di non avere nulla da rimproverarmi, di aver sempre fatto bene il mio lavoro, li appunti da lavoro da dieci anni e prima ho lavorato vent'anni al comune di Calolzio Corte. Ma secondo lei perché questo atteggiamento nei suoi confronti? Non lo so, ho dato fastidio in qualche modo? Dopo un anno di assenza dal lavoro un dipendente viene sostituito da una ditta esterna per cui non è più necessario? Non lo so. Sono stata invisa sicuramente all'amministrazione comunale perché questo secondo me è accanimento al di là del discorso che potrebbe essere di mobbing, infatti penso che nelle sedi opportuni abbiamo già parlato con gli avvocati, procederemo in tal senso. L'ordenanza dell'integro da parte del giudice del lavoro di Bergamo dice che il comune dovrà riconoscermi tutte le mensilità arretrate dalla data del licenziamento alla data dell'effettivo reintegro, l'urde, dovrà pagarmi i contributi che non ha versato dalla data del licenziamento alla data dell'effettivo reintegro e dovrà riconoscermi 4.000 euro oltre a 1 recessori per le spese legali che ho sostenuto. Lei ora come sta di salute? È stato un anno molto difficile. Guarda, è stato un anno difficilissimo, difficilissimo perché oltre alla malattia che già mi aveva provato dal punto di vista fisico e morale, perché comunque è una lotta che non sai come va a finire, è stato il fatto che mi sono trovata sola di fronte a questa situazione di lavoro, sola perché l'amministrazione comunale che in un primo momento sembrava mi appoggiasse rispetto a questo mio percorso di salute, a un certo punto si è accanita nei miei confronti e mi ha abbandonato. Oggi come oggi di salute sto meglio, devo ringraziare anche l'ospedale di Lecco, il reparto oncologia perché sono stati veramente carini e molto gentili, mi hanno seguito da vicino, il mio caso non era semplice e mi sto riprendendo, naturalmente mi sto curando ancora, non sono risolte le mie situazioni di salute.